Un connubio tra scienza e arte, tra due amiche che con la loro professionalità e creatività sono andate oltre i convenzionali schemi, dando vita a un progetto innovativo che ha preso corpo con la mostra Pindevice. Alessandra Mazzeo, biologa e docente Unimol e Lucia Petracca, designer e artista. Partendo da un brevetto della Mazzeo con un piccolo dispositivo usato in campo scientifico che permette in poco tempo di avere diagnosi disparate che vanno dalle malattie infettive ai marches tumorali, dalle contaminazioni ambientali alle verifiche delle vaccinazioni, è stata ideata una mostra che è stata prima esposta a Campobasso a Palazzo San Giorgio per i 30 anni della caduta del muro di Berlino e poi a Termoli al castello Svevo, la forma traslata in opere d'arte. Questo progetto nasce dalla voglia, dall'intenzione di divulgare un brevetto industriale che riguarda una tecnologia diagnostica, di cui sono il primo inventore, che ha un dispositivo con questa forma. Questa forma naturalmente diventa messaggera di universalità nel senso che consente di eseguire analisi anche in campo in territori non serviti da strutture sanitarie, quindi fuori dai laboratori e senza personale specializzato. Questo nell'intenzione di rendere universale l'accesso alla diagnosi perché è un diritto inalienabile dell'uomo. Ovviamente con il connubio e la collaborazione con l'artista e designer Lucia Petracca abbiamo utilizzato questa forma innovativa, ovviamente unica al mondo perché è protetta dai titoli di proprietà intellettuali e diritti d'autore, nell'arte e nel design. Il connubio ha dato vita a quadri, sculture da muro e una linea di gioielli con bracciali, collane e vertical rings, anelli, cioè sviluppati in verticale. Per le opere d'arte sono stati utilizzati metalli poveri, acciaio e ferro soprattutto con incastri evidenti senza saldature. Per i gioielli anche metalli più preziosi con incastri in plexiglass tagliati con il laser. Le tecniche utilizzate nel mio design già pregresso ma a maggior ragione adesso è quello della semplificazione, sempre più semplificazione, fino ad arrivare a delle forme pure che poi siccome io lavoro a lastre e quindi taglio tutto con il laser il segno è veramente minimal e però diventa tridimensionale, infatti i nostri quadri sono più che altro sculture da muro perché vengono tagliate al laser queste lastre bidimensionali però poi con degli incastri o con delle piegature sempre lavorate con una tecnologia particolare o laser o calandre o piegatrici diventano tridimensionali e danno un movimento che altrimenti non sarebbe possibile con le tecniche tradizionali.